I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega delle procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, stanno dando esecuzione a 120 perquisizioni nei confronti di soggetti che risultano aver percepito il reddito di cittadinanza indebitamente, in quanto condannati in via definitiva nell'ultimo decennio per il reato di associazione di tipo mafioso e a sequestro preventivo delle somme ricevute dagli indagati nonché delle carte prepagate utilizzate per l'erogazione del beneficio. L'attività investigativa è stata effettuata dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziale di Napoli e del Gruppo di Torre Annunziata, mediante un'accurata analisi orientata a verificare i requisiti per la legittima percezione del beneficio. È stato così possibile individuare centinaia di domande presentate dai soggetti residenti nella provincia di Napoli, nonostante la sussistenza di cause impeditive. Come noto, infatti, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, all'atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i particolari requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali, nonché di ulteriori presupposti di compatibilità. In particolare, nel corso delle indagini sono state accertate l'omissione di informazioni dovute e la non veridicità dei dati autocertificati nelle domande di reddito di cittadinanza, presentate da coloro che, essendo stati condannati per il reato di associazione mafiosa, non avrebbero potuto in alcun modo accedere alla misura di sostegno del reddito familiare. All'esito degli accertamenti condotti, le autorità giudiziarie interessate hanno disposto le 120 perquisizioni in corso di svolgimento, volte a sottoporre al sequestro le somme indebitamente percepite dagli indagati, a titolo di reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo pari ad oltre 1.180.000 euro, nel periodo compreso da aprile 2019 a gennaio 2021. L'operazione ha richiesto un massiccio impiego di forze quantificabile in oltre 500 militari del comando provinciale, con l'ausilio anche dei baschi verdi. Non si tratta dei furbetti del reddito di cittadinanza, ma di soggetti condannati per gravi delitti di associazione mafiosa che hanno commesso illeciti contro il reddito di cittadinanza, presentando autocertificazioni false per ottenere indebitamente il beneficio. C'è stato un proficuo scambio di informazioni tra IMS e Guardia di Finanza e un'azione coordinata di tutte le procure partenopee, Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata, per organizzare questo intervento a massa con più di 100 perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre un milione di euro.